Io mi chiamo Elia Kazan, ho sangue greco nelle vene, ma sono turco di nascita e americano di cittadinanza perché mio zio emigrò molti anni fa. Questa storia mi è stata raccontata in passato dai miei parenti anziani e si ricordano l'Anatolia, il grande altopiano al centro della Turchia e ricordano il monte Erzus che sovrasta a quell'altopiano. L'Anatolia era l'antico paese di Greci e di Armeni, ma circa cinque secoli fa quella terra venne invasa dai Turchi e da quel giorno Greci ed Armeni divennero una minoranza. Erano praticamente due popoli assoggettati. Erano vestiti alla stessa maniera dei Turchi, con i fezze e i sandali. Mangiavano lo stesso cibo, soffrivano il caldo insieme, si servivano dell'asino come mezzo di trasporto e guardavano la stessa montagna, ma con sentimenti diversi. In realtà essi erano conquistatori e conquistati. Grazie per la visione!